Bella a tutti ragazzi! Oggi si troviamo in un nuovo video di un aggiornamento strabiliante strabiliante come tutto ciò che noi abbiamo appena visto un aggiornamento che cambiò per sempre la terra wow! di Super Mario Maker 2 però non perdiamoci in chiacchiere andiamo a vedere l'aggiornamento che stupirà a tutti quelli che hanno una switch una switch ok ci sono i sottotitoli non so che capirete allora vi descrivo nuovi potenziamenti abbiamo un bel fungo il fungo di Super Mario 2 wow! quindi vuol dire prendere i nemici e fare la cavalcata dei Mario potrete prendere i nemici volanti giganti pure i chain chomp nei livelli innevati potrete tirare una balla basket pure il costume da rana è stato aggiunto mamma e che... uh! potete diventare Gesù con questo inoltre c'è pure la cosa da palloncino uh! quello da scogliato non mi interessa un sacco anche il costume da boomerang ma dai! poi ci sono i costumi delle cose c'è il costume cannone che sembra quasi una cafonata ma è vero lo scongiuo questo è ciò che preferirei di tutto poi il costume a elica che vi fa volare manco Superman un elicottero o Goku potete andare pure in basso il coso Pau che vi permette di spaccare fino a tre oggetti come questo e il fungo il fungo Goomba che vi fa in realtà diventare Hitman che non vi riconosce nessuno e se vi abbassate ancora meglio e il pallottolo Bill che vi fa volare alla propulsione mancurrazzo se faccio ancora questi Superman memes sono fatto Bowserotti i sette figli di Bowser sono ritornati ok ci sono tutti questi che sono riassumibili in cose e Ludwig Ludwig is the best cosa in the world poi nuovi ok la chiave è maledetta che se la raccogli diventati perseguita fanto oh avete fatto un'altra game reference poi il coso on off quindi puoi trollarli tutti mi piace puoi fare delle cose manco oh quelli che si lanciavano in Bowser nella battaglia finale di Mario World so per i missili in raggi gamma e anche volanti cioè mi piace un sacco e poi c'è un mondo ma che cos'è la creazione di un mondo ma è bellissimo cioè puoi in realtà mettere parti di un mondo e farlo a S o a J non lo so che cosa è meglio a me a S la J vabbò guarda puoi mettere le decorazioni i livelli puoi mettere tutto guarda puoi puoi anche puoi mettere puoi mettere anche le decorazioni no dai sta diventando troppo scemo sto aggiornamento c'è anche la stanza bonus no è bellissima puoi realizzare potrebbero realizzare anche i livelli bonus ma questo gioco sta diventando più scemo ci sono anche i temi che sono stati realizzati per replicare i mondi di New Super Mario Bros Wii che a quanto pare wow 8 mondi e 40 livelli Super L World che fa schifo puoi pure giocare i mondi esatto Ronnie World ma che cavo ah si ok a basso budget è sta cosa ok camminate come Gesù e raccogliete cose diventate dei degli obesi ma comunque ci vediamo alle cretinate